Cosa potrebbe fare un'organizzazione per rendere inutilizzabile bitcoin? 1. Spegnere internet 2. Distrugge tutti i nodi e i miner 3. Rendere bitcoin illegale 4. Minare blocchi vuoti Ma come si spegne internet? A parte l'elevata cooperazione che ciò richiederebbe a entità private e governi, non sappiamo come chiudere internet. Internet è stato inizialmente progettato per continuare a funzionare anche dopo un attacco nucleare e non ha un kill switch per design. Internet in sé è estremamente resiliente contro gli attacchi e le informazioni si limitano a ruotare attorno a ciascuna parte che disattiviamo. Anche se parti importanti di internet dovessero venire chiuso danneggiate, i requisiti di larghezza di banda di bitcoin, attualmente di un mega ogni 10 minuti come minimo, potrebbero essere abbastanza leggeri per essere trasmessi con successo su onde radio o sul sistema telefonico. Inoltre, davvero in qualche parte del mondo esistono organizzazioni che vorrebbero veramente spegnere internet? Internet ha molti altri usi oltre a bitcoin. Il danno economico derivante dalla disattivazione di internet sarebbe gigantesco e molto probabilmente costerebbe anche vite umane. La rete bitcoin è composta da individui, gruppi e organizzazioni che eseguono il software bitcoin su propri laptop, smartphone e persino Raspberry Pi. Alcuni di questi partecipanti sfruttano anche hardware informatici dedicati, chiamati appunto miner bitcoin, per convertire elettricità in bitcoin. Il tutto in una sorta di lotteria digitale dove coloro che aiutano a rendere la rete più sicura ottengono in cambio bitcoin. Buona parte dei miner e gestori di nodi sono visibili e pubblici e, nel tempo, hanno fatto del mining un business vero e proprio. Con molte probabilità non saranno mai interessati a chiudere volontariamente i propri sistemi. Potrebbe essere possibile che vengano sequestrati o distrutti alcuni miner o nodi, ma ciò renderebbe il mining stesso ancora più redditizio per coloro che operano segretamente. Come risposta, il mining di bitcoin andrebbe sottoterra ed i nodi si nasconderebbero dietro VPN e Tor. Finché c'è la possibilità di guadagno nell'estrazione di bitcoin, le persone rischiano la propria libertà per prenderne parte. Un esempio è il Venezuela, dove, nonostante bitcoin sia legale, continua a crescere il mining. Se uno stato dovesse rendere illegale bitcoin, diventerebbe molto più difficile per le persone normali acquistare miner, scambiare bitcoin in denaro cartaceo o accettarlo come pagamento in un negozio. Ma come nel mondo dei mercati online di droga, che sono anche in una certa misura guidati da bitcoin e dalle criptovalute, le persone sono estremamente disposte ad infrangere la legge per il profitto e la natura pseudonimica di bitcoin renderà difficile rintracciarne i suoi commercianti, proprietari ed utenti. L'unico modo sicuro per fermare bitcoin e renderlo inutile è partecipare a te da solo e interromperlo dall'interno. Fa parte della natura anarchica di bitcoin che in chiunque possa prendere parte al sistema in modo anonimo, purché conforme alle regole stabilite nel software bitcoin. Ad esempio, nessuna regola afferma che i blocchi devono essere riempiti con le transazioni per essere validi, quindi un miner potrebbe teoricamente minare solo blocchi vuoti. Se tutti i blocchi fossero vuoti, nessuno potrebbe più effettuare transazioni sulla blockchain di bitcoin e, senza la possibilità di inviare valore, diventerebbe inutile in poco tempo. Con solo il 10% della potenza computazione globale di bitcoin, un'organizzazione potrebbe rallentarne in modo significativo la rete. Man mano che l'operazione anti-bitcoin si espande, potrebbe raggiungere il 50% della potenza di hash in totale, consentendo loro di generare solamente blocchi vuoti. I nodi bitcoin accettano la blockchain più lunga come valida, quindi, se un gruppo dovesse entrare in possesso di più del 50% della potenza di hash in totale, potrebbe creare una catena più lunga dell'originale tenuta in piedi dai monatori onesti, che preferirebbero riempire i loro blocchi con le transazioni. Il creatore di bitcoin, sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, spiega Con tutto ciò in mente, passiamo alla parte più interessante.